Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Amati per farti amare o devi amarti per farti amare. Lo slogan narcisistico dei nostri tempi. Partiamo dal fatto che forse ho detto anche nella live precedente, che ho fatto l'ultima mia live. Andatevela a vedere, a riascoltare. Esiste questo slogan, amati per farti amare. Non è vero, non sono d'accordo, perché il discorso dell'autostima, il discorso di riuscire a trattarsi bene, ad avere autostima, a valorizzarsi e ad amarsi, è completamente slegato dal farsi amare. Per il semplice fatto che, sì, ovviamente le persone sono attratte dalle persone che si amano, che si vogliono bene, che sono realizzate in qualche modo. Ma non è sempre così, perché l'amore, come dicevo, è imprevedibile. L'amore non è matematica, non è una scienza. E di conseguenza succede che ci sono tantissime persone che non si amano, ma sono amate, sono amate ugualmente, con i loro difetti, con la loro bassa autostima, con i loro turbamenti, e vengono comunque amate lo stesso. E magari da tante persone, non solo da una. Ci sono persone che non si amano e vengono amate. Ci sono persone che, al contrario, pensano di essere amate o di trovare l'amore se si amano. Ma non è così. Magari tu ti ami, ma non è detto che tu riuscirai a trovare l'amore. Sono cavolate, sono cavolate assurde. Ci sono persone che non sanno amare e vengono amate. persone che non si amano e vengono amate ugualmente, perché comunque riescono a innescare l'amore nell'altra persona. Ci sono persone realizzatissime, che si amano tantissime, che sono quasi dei narcisisti o delle narcisiste, perché poi l'autostima, la capacità di amarsi, oggi come oggi, si trasmuta poi il narcisismo, che non sono amate da nessuno, perché non sono amate. Magari sono soli come dei cani. Non è scontato, non è legato, non è la legge. Solo che oggi ci vogliono far credere, amplificando quelli che possono essere i nostri tratti narcisisti, narcisistici, di volerci bene, di amarci, perché così troveremo la persona giusta all'altra stronzata del secolo. E noi non siamo una mela a metà, ma siamo una mela intera. Come se appunto, ripeto, una persona dovesse essere mezza, dovrebbe essere deficiente, se si completa con un'altra persona. Come ho detto, c'è la paura di non avere una propria identificazione, che porta le persone a diventare dei narcisisti, non a farsi amare. La paura di non essere delle persone complete, che poi appunto di completo non so cosa posso esistere, porta le persone a una gara narcisistica, a chi si vuole più bene, a chi si stima di più, a chi si valorizza di più, a chi ha più successo, pensando di poter trovare l'amore. Ci sono tantissime persone che si stimano, che si valorizzano, che si amano, che sono sole come cani. Non è scontato, ci sono altre persone problematiche, magari persone che non si stimano, persone che non si amano, che sono amate tantissimo. Noi non siamo una mela metà, non siamo una mela intera, noi nell'amore ci completiamo, ma non perché abbiamo delle mancanze, ci completiamo perché evolviamo, l'amore ci fa evolvere, una relazione di coppia ci fa evolvere e quindi ci completa, ci completa ma non perché siamo incompleti, ci completa, è un'unione, è una forza, è un'aggiunta di tante cose. Quindi amarsi va bene fino a un certo punto, ma se pensate di amarvi per trovare l'amore, qui state sbagliando. Ciao a tutti!